Lucia, ci siamo spostati all'esterno, proprio per questo abbiamo voluto portarvi, nonostante tutto, nonostante le difficoltà di segnale sulla tomba di Natuzza, però ci siamo spostati fuori proprio per poter continuare il racconto di questa donna straordinaria. Le persone intorno a me sono tante persone che erano venute qui stamattina proprio per porgere un saluto a mamma Natuzza. Antonio, noi ci eravamo interrotti nel discorso, ma tu quando eri piccolo cosa capivi di quello che succedeva a mamma? Ma noi crescevamo normale perché la mamma nascondeva tutto, io non potrei parlare dal lato spirituale, ma vedevamo una mamma normale, poi piano piano crescendo, crescendo abbiamo scoperto chi era la mamma, ma non del tutto perché lei era sempre riservata, si nascondeva tutto. Il periodo della quaresima stava sempre con il maglione tirato sulle mani per non far vedere le piaghe. Una volta ho chiesto a mamma di attaccarmi un bottone che era caduto e lei costretta ha dovuto tirare sulle mani e io gli ho visto le piaghe e gli ho detto mamma ma tu che hai, sei rovinata qua le mani. Dice no bello non ti preoccupare che è il detersivo, che allora si lavavano i panni a mano, infatti io l'aiutavo al pozzo a tirare l'acqua perché non c'era l'acqua in casa e l'accompagnavo con i recipienti e stavo con lei per aiutarla. Antonio ma lei per esempio nei momenti in cui lei raccontano anche che abbia vissuto fenomeni di bilocazione. Senti ma io su questo non potrei, non posso parlare perché tocca ad altri. Quello che ti chiedevo io era vivere con una mamma così particolare. Sì sì questo è vero però ti ripeto lei cercava di nascondere sempre questo lato qua. Ed è proprio quello che ci ha detto il Vescovo, il Vescovo ci ha proprio detto semmai Natuzza sarà una santa sarà la santa della semplicità. Noi abbiamo voluto proprio fare due chiacchiere con il Vescovo di questa diocesi che tanto ha fatto anche per questa causa e che voi ci tenete tanto a ringraziare. Certo sicuramente l'ho ringraziato pure il giorno che è stata questa grande festa, era doveroso da parte della famiglia ringraziare Sua Eccellenza per come si è impegnato veramente con il cuore e con amore per la mamma. E allora vediamo proprio cosa ci ha detto il Vescovo. Grazie a tutti.